Grossa attenzione nel centro-sinistra molisano. La notizia del giorno oramai ha fatto il giro di tutta la regione molise. Massimiliano Scarabbeo, uno dei più importanti rappresentanti del Partito Democratico, si è autosospeso. Perché? Lo chiediamo proprio a lui. Il mio più che altro è un momento di profonda riflessione. La mia provenienza culturale, la mia provenienza d'esercizio quotidiana è più rivolta alle problematiche della gente, meno rivolta alle questioni partitiche e di poltrona, nello stesso tempo all'interno delle nostre organizzazioni politiche. Il problema è nazionale, il problema in parte anche regionale, è un problema di atto di indirizzo errato, a mio modesto avviso, nella costituzione di questo nuovo soggetto politico. Quindi mani libere in Consiglio regionale Scarabbeo? Mani libere relativo. Io ho dimostrato in questo anno di attività di essere più propositivo, se mi permette, soprattutto rivolto maggiormente a quelle che sono le tematiche di interesse collettivo e un po' meno a quelle politiche partitiche. iniziando dal discorso della legge quadro sulla famiglia, sul discorso delle zone franche, sul discorso della legge quadro per quanto concerne il parco degli olivi della città di Venafro. Sono elementi di proposizione che caratterizzano quella che è la mia forma mentis, quello che è il mio pensiero e il mio modo di operare quotidiano. E da questi valori concreti, io sinceramente per motivi politici non vorrei discostarmi più di tanto.